Un miglio riservato ai 4 anni, una condizionata sul miglio, Zerolandia, Zoccolo Jet, Zulla Dell'Uomo e Zantedino, Zirac, Zigil, Zeron Spritz, Zeus Thor, la prima fila, in seconda Zanzibar Font e con il numero 9 Zollid Model, i cavalli. Ora vanno ad approntare la curva che precede il punto dello stacco, si ritrae Zeus Thor e la macchina che prende velocità, una centinaia di metri dal punto dello stacco, accelera il mezzo meccanico alla chiusura delle ali, c'è il volo in avanti di Zulla Dell'Uomo che è proiettato all'avanguardia da Davide Angeletti, si serra sotto Zerolandia che costringe a largo Zoccolo Jet che si trova costretto ad andare ad impegnare il leader, a largo anche Zirac, Ziggil all'interno del quale c'è Zantedino, poi Zanzibar Font e di fuori Ziron Spritz, insiste Zoccolo Jet e al termine della piegata si porta a condurre nei confronti di Zulla Dell'Uomo il passaggio di fronte alle tribune con Zerolandia in terza posizione e Zirac, Ziggil all'esterno, siamo al completamento del mezzo giro di gara con Zirac, Ziggil che all'esterno si getta l'inseguimento del nuovo leader Zoccolo Jet, Zirac, Ziggil in scia Zoccolo Jet, terza posizione per Ziron Spritz, il calo di Zulla Dell'Uomo che retrocede in coda al gruppo in coda al quale c'è anche una rottura mentre siamo sul termine della penultima piegata con Zirac, Ziggil che va a pressare il leader Zoccolo Jet, i due, ora alle prese con Zirac, Ziggil che passa nei confronti dell'avversario all'esterno del quale si produce il suo sforzo anche Ziron Spritz che si getta in seguimento il nuovo battistrada, siamo all'ingresso della piegata conclusiva con Zirac, Ziggil all'avanguardia, Ziron Spritz che va in pressing all'esterno, Zoccolo Jet in terza posizione alla corda salta l'errore di Zolit Novel che salta via all'ingresso dell'addirittura d'arrivo dove c'è lotta per la vittoria con Zirac, Ziggil che cerca lo scatto, ci prova Ziron Spritz, Zirac, Ziggil e Ziron Spritz alle prese, mette pressione ma sfugge Zirac, Ziggil al forcing di Ziron Spritz e Antonio Leonardo viene a completare il suo pomeriggio vittoriosamente con Zirac, Ziggil al comando, Ziron Spritz in seconda posizione, Zoccolo Jet che mantiene il terzo, è tutto dalle campanelle con Zirac, Ziggil vincitore della settima nei confronti di Ziro Spritz e di Zoccolo Jet. Grazie.